Bentornate ad una nuova puntata di Sport Today Speciale Ciclismo Ospite di oggi Alex Carrera procuratore dell'agenzia ING All Sports riferimento di tantissimi campioni uno su tutti proprio Tadej Pogacar e allora vado subito a chiamare Alex che dovrebbe già essere collegato con noi Ciao Alex, benvenuto Buongiorno Francesco e buongiorno a tutti Buongiorno a te, innanzitutto Alex come stai? Bene, è un periodo molto impegnativo per il mio lavoro, di solito il periodo tra una gara e l'altra è il periodo in cui c'è più cose da fare poi naturalmente quando si partirà con la prossima grande gara cioè il Tour de France il mio lavoro andrà in discesa mentre il lavoro dei miei assistiti andrà in salita Allora, partiamo appunto dalla Corsa Rosa una corsa vinta stradominata da Tadej che settimane sono state per te? Quali sono state le emozioni? Sono state settimane bellissime non solo per quanto riguarda Tadej ma per quanto riguarda in generale il corridore dell'INJ abbiamo colto grandi successi 9 tappe vinte 2 triplete come piace chiamare a me 60 giorni i nostri atleti hanno indossato le maglie di leader quindi 20 giorni per ogni maglia dalla rosa all'azzurra passando per la bianca un Antonio Tiberi che si è fatto conoscere ai grandi appassionati e poi la sorpresa Giulio Pellizzari è stato un giro però che ha consolidato la realtà dei nostri atleti a livello internazionale con Steinhauser che ha colto un grandissimo successo con Andrea Vendrami che per la seconda volta ha vinto una tappa al Giro d'Italia e che per la seconda volta mi ha anche riuscito a sfilare una maglia della Juventus perché per la seconda volta ho perso una scommessa ma se vuoi te la racconto dopo e poi Pelaio Sanchez Udebrooks tanti tanti successi ecco parlando degli italiani Tiberi e Pellizzari sono stati si sono messi in mostra facendo sognare l'Italia Tiberi tra l'altro che è arrivato quinto nella generale oltre ad aver vinto la maglia bianca quindi quella di miglior giovane che probabilmente senza l'afforatura a Europa sarebbe stato con grande probabilità sul podio del Giro si fa parte purtroppo dello sport anche in momenti di sfortuna lui ne ha avuta moltissima nella seconda tappa di Europa in quel momento probabilmente era troppo presto per giudicare per dare una rilevanza così importante alla sua doppia foratura nella tappa piemontese poi arrivato a Roma c'è tanto rammarico perché senza quei due minuti persi poteva tranquillamente giocarsi il podio con Geraint Thomas ma è giovane ha vinto la maglia bianca è sicuramente una grande soddisfazione ma ne sono più che convinto che lo rivedremo protagonista della corsa rosa e non solo nel futuro invece qual era la scommessa con Ben Rame lui che ha vinto appunto a Sappada al termine di una fuga vincente la cosa strana è che per la seconda volta alla partenza del Giro d'Italia mi sono ritrovato al J Hotel lui è un grandissimo appassionato della Juventus è un grande fans e come tre anni fa durante il Giro d'Italia che lui ha vinto la prima tappa ho fatto la scommessa all'epoca era una maglia di Cristiano Ronaldo questa volta era una maglia di chiesa dicendo che se avesse vinto una maglia una tappa al Giro d'Italia il regalo che avevo ricevuto dalla Juventus Football Club di una maglia loro l'avrei donata a lui e per la seconda volta è riuscito a vincere la tappa e quindi a vincere la scommessa e quindi sarà il mio dovere come la volta precedente alla prossima occasione cioè ai capi italiani consegnare ad Andrea Vendrame la maglia della Juventus invece Alex parlando di Taddei abbiamo sempre detto abbiamo detto più volte essere il ragazzo della porta accanto sempre gentile disponibile ma è altezzoso molto rispettoso nei confronti dei colleghi e degli avversari cosa comporta gestire un campione del calibro di Taddei come si gestisce questo fenomeno che sta riscrivendo la storia del ciclismo innanzitutto voglio aggiungere che lui è oltre che rispettoso degli avversari è rispettoso anche dello staff quindi ha un rapporto veramente incredibile tra lui e lo staff della Hawaii Emirates e ne ho avuto ancora oggi nonostante che lavoro con Taddei dal 2018 una conferma lo scorso weekend a Isla 2000 quando ho visitato il contratto Taddei ed ero lì insieme ai compagni di squadra ma anche a diversi membri dello staff italiani e spagnoli e ci siamo ritrovati alla sera alle 11 di sabato a fare una sfida a biliardo con lui presente con lui giocava eravamo io e Taddei contro Soler e Danilo il massaggiatore della Hawaii questo per farti capire chi è Taddei è la persona che passami il termine non se la tira ma è il ragazzo veramente della porta accanto come si gestisce con professionalità e trasparenza perché Taddei è una persona molto smart quindi capisce subito le persone che ha di fronte ha una capacità di capire il problema e di risolverlo ma ha anche la capacità e un sesto senso che capisce che chi non gli dice la verità o chi fa qualcosa per interesse viene subito allontanato quindi con lui bisogna essere come con tutti del resto trasparenti e professionali e quanto Taddei può essere un traino un esempio per i più giovani Taddei è un esempio per i più giovani io credo che Taddei sta al ciclismo come Michael Jordan stava al basket come Roger Federer stava al tennis come Tiger Woods stava al golf è una persona che oltre a vincere nel tempo è quella persona che trascina i fans trascina i più piccoli abbiamo visto quanti ciclisti giovani italiani bambini si sono avvicinati al nostro sport mentre il grande corridore avvicina gli appassionati Taddei è riuscito e la dimostrazione è nell'ultimo giro d'Italia ad avvicinare persone che abitualmente non seguono il ciclismo e questo è il grandissimo personaggio non il grandissimo campione e quanto vale oggi economicamente Taddei a livello di contratto personale di sponsor il suo valore è duplicato negli ultimi due anni e e quindi è un valore da numero uno non mi piace dire numeri perché i numeri sono sempre limitativi circoscrivono soltanto un valore assoluto ma lui è un valore relativo c'è un valore che continua a crescere se io fossi un investitore comprerei delle azioni di Taddei Pogaccia al company Taddei ha un rapporto particolare con l'Italia Alex lo rivedremo un giorno alla Corsa Rosa dove tra l'altro lo stesso Taddei ha speso delle bellissime parole anche nei confronti dell'organizzazione e del pubblico io penso di sì perché no Taddei era una morte d'Italia prima anche perché la prima come tutti sanno la prima serata romantica con la sua compagna l'avuta il figlio perché nelle gare giovanili ha visto in più di occasione l'età per il giro Italia è legato alla Milano Sanremo alla Terreno a Lombardia quindi lui ama il cibo e ama gli italiani quindi sì penso che lo rivedremo quando questa domanda va posta dallo staff dirigenziale a Mauro Giannetti ad Andrea Agostini e a Macin per quando correrà ma sicuramente lo rivedremo anche perché è venuto una volta e ha avuto successo di solito quando uno ha successo vuole ritornare sul luogo del delitto certo lui appunto la Corsa Rosa ha dato veramente tanto ha riportato entusiasmo ha riportato slancio e proprio anche l'entusiasmo dei tifosi sulle strade è stato qualcosa di pazzesco verso questo cannibale gentile sempre appunto pronto ad un sorriso per avversari e rivali che è anche unico in questo Tadei che cosa ha lasciato il giro a Tadei ne avete parlato e ha avuto modo di parlare con lui guarda dopo il giro Italia ho avuto due occasioni per vedere Tadei di persona non per sentirlo telefonicamente perché anche pochi minuti prima che iniziassimo il nostro collegamento ero al telefono con lui a ritorno da Roma e l'ho visto ieri a Isola quello che il giro d'Italia gli ha lasciato è tanto calore da parte della gente scusa che avevo ricevuto una chiamata il calore da parte della gente cosa vuol dire lui sentiva era molto particolare che in un paese straniero perché lui comunque se lo vedo che dalla partenza all'arrivo lungo tutto il percorso c'erano migliaia e migliaia di persone che nominavano il suo nome e questo gli ha lasciato un ricordo incredibile come sta preparando la corsa francese e come ha gestito Tadei il periodo post giro d'Italia beh è rimasto due o tre giorni era impegnato due o tre giorni dopo Roma con degli sponsor ma dopo il che dal credo due no o il 31 maggio o il primo giugno è esattamente esatto non me la ricordo insieme alla squadra è andato in altura a Isola 2000 dove ci sono tra l'altro anche altri avversari che vogliono conquistare la maglia gialla nel prossimo tour è in ritiro con gli spagnoli Sollier e Ayuso è in ritiro con Team Valens si sta allenando insieme a Sivaco e allo staff della UAE non farà i campionati nazionali quindi rimarrà più possibile in altura per recuperare lo sforzo del Giro Italia per riposarsi e però per mantenere la condizione già eccezionale allo scorso giro e dopodiché si parte da Firenze in una cavalcata che lo porterà speriamo incrociamo le dita vittorioso a Nizza ecco quest'anno sarà un'edizione speciale del Tour de France appunto la partenza dell'Italia e poi l'arrivo a Nizza non sui campi Elisi a Parigi quindi si concluderà anche vicino a casa di Tadei che ricordiamo che vive a Monte Carlo insieme a Urska sì comunque Vada sarà un successo perché saremo vicino a casa e si farà comunque una festa visto che purtroppo una vera festa dopo il Giro non c'è non c'è stata perché perché si deve subito ripartire prima con gli sponsor con l'impegno degli sponsor e poi con con gli allenamenti per il Tour de France credo che ci sarà una festa per lui per tanti corridori che abitano in quella noto e famoso stato e e vediamo speriamo che sia una festa che sia qualcosa di festeggiare di speciale io credo che è giusto che ci provi un campionissimo come lui a fare la doppietta sappiamo quanto sia difficile la dimostrazione che l'ultimo è stato Marco Pantani allora Alex io ti faccio un grandissimo invoca al lupo grazie e ti ringrazio per essere stato con noi qui oggi e poi sicuramente torneremo a sentirci magari già durante appunto il Tour de France se tu mi chiami vuol dire che le cose stanno andando bene e quindi mi auguro di ricevere una chiamata da prezioso Cazzaniga grazie Alex noi siamo in conclusione ringrazio Alex Carrera per essere stato nostro ospite oggi e come sempre anche grazie a Stefani in regia vi ricordo che Sport Today Speciale Ciclismo torna come sempre lunedì prossimo le 18.25 grazie per averci seguito ed una buona serata ciao Alex grazie ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti